La orazione e il coraggio dell'annuncio fuero los temas tratados per il Papa e la homilia della misa della mattina del jueves. Quando oriamo con valore, il Signore nos dà la grazia e anche se dà a Sì stesso in la grazia, il Espirito Santo, è a Sì stesso. Il Signore non dà o manda una grazia per correo, nonca, la leva a Lui, Lui è la grazia. Lo che noi chiamo è un po' come il papel in cui si envuelve la grazia, ma, anche quello che più importante, il Signore.